Musica Benvenuti al TG10, l'apertura del telegiornale oggi la dedichiamo all'ennesimo raid furtivo commesso ai danni dell'area di servizio Make Service sulla statale Gela Vittoria rubati numerosi grattevinci da tre giovani per il titolare dell'attività commerciale l'imprenditore Maurizio Mel fa quanto accade e frutto di un disagio economico e sociale che coinvolge l'intero territorio Hanno fatto ruzione in cerca di denaro e dalla fine hanno portato via numerosi grattevinci per svariate centinaia di euro Sono tre i giovani che hanno agito immortalati dalle telecamere di videosorveglianza collocate sia all'esterno che all'interno dell'area di servizio Make Service sulla statale 115 Gela Vittoria I tre ladri sono attivamente ricercati dalla polizia Si tratta dell'ennesimo raid furtivo commesso ai danni della struttura dell'imprenditore Maurizio Mel fa Come legge l'ennesimo furto subito dalla sua azienda? E questo ennesimo furto diventa un atto che noi interpretiamo come un segnale di allarme forte per questa città Quindi a questo riguardo quello che penso è che bisogna intervenire prontamente per cercare di fronteggiare questa emergenza economica e sociale Dunque un disagio vero e proprio secondo lei dettato da cosa? Dettato dal fatto che a Gela manca la cultura di impresa, manca quel motore come si trova in Emilia, Romagna, come si trova in altre regioni Che porta lavoro e occupazione, quel motore che dà la possibilità a chi vuole investire di poterlo fare Investitori italiani, gelesi, stranieri Quindi io penso che non può più essere questa la terra dove per avere un certificato ci vogliono 15 giorni Non è possibile, siamo fuori dai tempi Il rammarico per quanto accaduto è tangibile nelle parole di Melfa Ma quello che colpisce di più in questa vicenda, così come sottolinea lo stesso imprenditore È l'amara constatazione che si delinque quasi per necessità Non nutro nessuna rabbia nei confronti di questi ragazzi, non che non vadano colpevolizzati Ma ci sono delle grosse responsabilità, quelle vere, gli atti criminali sono di quei politici, di quei funzionari burocrati Che con i loro atti non promuovono lo sviluppo E quindi questi ragazzi sono delle vittime di questo sistema malato che non funziona Ecco, lei sosteneva che c'è una burocrazia lenta, se vogliamo anche elefantiaca Ma lei è stata anche vittima di questa burocrazia? Sì, da circa 20 anni Perché come dicevo prima, io per un certificato mi rifiuto di dovere chiedere un favore Abbiamo una cultura che è la cultura della rassegnazione che dobbiamo subire Si deve finire questa storia perché dobbiamo tirare un po' tutti fuori gli attributi E dire basta, dire se io voglio fare una cosa per me ma soprattutto per gli altri Nessuno si deve mettere in mezzo Per Maurizio Melfa i miglioramenti a Gela, tanto sbandierati, sono pari allo zero Ho creato una task force, perché io non sono un politico Dove si coinvolge innanzitutto la prefettura Perché se c'è un'emergenza criminalità la prefettura è coinvolta Allora un tavolo forte con sindaco, prefettura, forze dell'ordine, sindacati, imprenditori Dove chiunque voglia fare lo possa fare Non deve chiedere favori, anzi viene sostenuto E allora in questo modo le cose possono cambiare E adesso parliamo del mortale incidente che si è dedicato ieri sulla statale Catania Gela Una tragica fatalità La vittima a bordo di un'auto è deceduta a seguito di uno scontro frontale con un tir della sua azienda Si chiamava Vincenzo Davide Tamburino, 55 anni, catanese È l'ennesima vittima della strada statale 417 Catania Gela L'imprenditore ha perso la vita ieri poco dopo le 11 Quando per cause da accertare da parte della polizia stradale Si è scontrato a bordo della sua Mercedes classe C Che procedeva in direzione Caltagirone Contro un tir della sua stessa azienda La Ortogel che viaggiava in direzione opposta Una tremenda fatalità L'impatto è stato violentissimo L'uomo è morto sul colpo Il sinistro mortale si è registrato all'altezza del chilometro 31 In località di Mineo Il mezzo pesante era partito da Caltagirone, destinazione Germania Proprio nella città della ceramica Tamburino doveva recarsi Aghiacciante la scena che si è presentata ai soccorritori La vettura dell'imprenditore era ridotta ad un ammasso di lamiere con torte Difficili le operazioni per estrarre dall'abitacolo il corpo senza vita della vittima Il conducente del tir è rimasto ferito in maniera lieve ed è incomprensibile Stato di shock Sullo luogo si sono portati, oltre agli agenti della polizia stradale Anche la polizia di stato di Caltagirone I carabinieri del comando compagnia di Caltagirone E gli uomini e i mezzi dei vigili del fuoco del distaccamento calatino Il traffico veicolare in entrambe le direzioni è rimasto bloccato per alcune ore Ed è stato dirottato sulla vicina statale 385 Tamburino, persona stimata e benvoluta da tutti Era la regenza di una storica e produttiva azienda di succhi di frutta Concentrati di frutta con sedi a Caltagirone e a Belpasso Cambiamo argomento Fiocchi di neve anche a Gela è successo la scorsa notte Le immagini che stiamo vedendo ne sono la testimonianza evidente Il manto stradale è imbiancato Per fortuna non si sono registrati disagi alla viabilità Considerato, come diciamo, che la neve è caduta in città durante la notte Le condizioni meteo purtroppo non sono delle migliori Il maltempo infatti imperversa in maniera costante Con pioggia battente su tutto il territorio Le rigide temperature che stanno accompagnando il mese di gennaio Stanno creando delle difficoltà anche nel settore dell'agricoltura Produzioni danneggiate dal gelo Aziende agricole rimaste isolate Difficoltà di approvvigionamento di mangimi e foraggi Sono soltanto alcuni dei danni che la neve e il gelo hanno provocato in questi giorni Il maltempo dunque preoccupa agricoltori e allevatori Intanto danni abbastanza diffusi nel settore dell'ortofrutta in pieno campo Gli orticoli in particolare, carciofeti in pieno campo Poi ci sono danni alle strutture dei vigneti a cavallo Tra le province di Caltanissetta ed Agrigento Vicino alla zona del Canicattinese E poi ci sono dei danni anche nel settore zootecnico Ma soprattutto nella zona del vallone Diciamo che il problema più serio è L'approvvigionamento e il raggiungimento dei mercati Da parte delle produzioni Abbiamo difficoltà a reperire mangimi e foraggi Le aziende zootecniche hanno avuto gravi difficoltà E purtroppo continueranno ad averle Perché le previsioni non sono assolutamente positive Ma gli agricoltori lo fanno sempre con grande speranza E voglia di fare il meglio Loro ci hanno messo tutta la loro forza e il loro coraggio Certo abbiamo bisogno anche che gli enti pubblici La regione venga in soccorso diciamo Del settore agricolo siciliano Perché capiamo che obiettivamente ci siano delle difficoltà Ci sono delle difficoltà notevoli Siamo molto preoccupati ripeto perché Non siamo in condizione di prevedere cosa potrà succedere nei prossimi giorni Abbiamo avuto contatti con l'assessore Gracolici Sono avviate già le procedure di segnalazione dei danni Anzi invitiamo i produttori a regarsi verso le condotte agrarie Per fare la segnalazione degli eventuali danni riportati Ricordando che bisogna raggiungere una percentuale di danno Alla produzione lorda vendibile e comunque all'azienda Se si tratta di danni materiali Fotografare i danni materialmente Se ci sono stati crolli di strutture Per esempio nei vigneti il peso della neve ha fatto crollare i tendoni Bisogna fotografare il danno Fare un piccolo dossier Rivolgetevi tranquillamente agli uffici della Col di Vetti Direttamente andate all'ispettorato agrario Segnalate l'avvenuto danno Perché solo in base alla segnalazione Si potrà poi avere un ulteriore Un eventuale beneficio da parte della regione Sarà inaugurato domani alle 10 Verso la casa circondriale di Contrada Balate a Gela Lo spazio colloqui Stanza dedicata ai minori Che incontrano il genitore recluso L'iniziativa è del Soloptimist Club di Gela Preseduto da Maria Grazia Falconeri La stanza è stata ristrutturata ed abellita In collaborazione con l'amministrazione penitenziaria Con fondi del Soloptimist Club di Gela E su progetto e direzione di una socia L'architetto Marilena Rampanti Anche i cittadini gelesi Con un indicatore della situazione economica equivalente Pari o inferiore a 8.107,5 euro Possono accedere al bonus relativo al sistema di gestione Delle agevolazioni sulle tariffe energetiche Lo rende noto l'assessore comunale ai servizi sociali Licia Abela Il valore è stato innalzato di circa 1.000 euro Grazie ad un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico Resta invariato a non oltre 20.000 euro di ISEE Il requisito di accesso per le famiglie numerose Per presentare domanda di agevolazione Per il bonus energia È possibile utilizzare l'ISEE standard o ordinario E l'ISEE corrente valido due mesi Nel caso in cui siano intervenute variazioni significative Nella situazione reddittuale Oltre 150 finanzieri del comando provinciale di Catania A conclusione di un'indagine coordinata Dalla locale procura distrettuale Hanno eseguito 29 misure cautelari personali Di cui 14 arresti domiciliari E 15 provvedimenti di obbligo di presentazione Alla polizia giudiziaria E il sequestro preventivo di 25 impianti Di distribuzione stradale di carburante Nelle province di Enna, Catania, Ragusa e Siracusa Agli indagati è stata contestata L'associazione a denigure Finalizzata al contrabbando di prodotti petroliferi Immessi nel mercato nazionale In evasione di imposto Ovvero a Cisettaz Utilizzo ed emissione di fatture Per operazioni inesistenti Falso ideologico Frode in commercio E turbata libertà del commercio Sono stati sequestrati 700 articoli di moda Calzature, abbigliamento Borsa, accessori, contraffatti E di notte marche 757 confezioni di profumo contraffatte E poi ancora programmi per pc E giochi per console Sono state poste sotto sequestro Inoltre numerosi articoli elettrici ed elettronici Che potevano essere potenzialmente pericolosi Per la salute dei consumatori Questo è il risultato di un'operazione Delle fiamme gialle del comando provinciale di Caltanissetta Nell'ambito dei controlli economici del territorio Per stroncare in provincia il fenomeno dell'abusivismo commerciale Sono stati inoltre segnalati all'autorità giudiziaria 15 soggetti Le famiglie residenti nel comune di Gela Possono presentare istanza per l'ottenimento del sostegno per l'inclusione attiva La misura di contrasto alla povertà prevede un sussidio economico ai nuclei familiari economicamente svantaggiati Subordinato all'adesione ad un progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa Possono presentare istanza le famiglie economicamente svantaggiate Nelle quali siano presenti minorenni, figli disabili o donne in stato di gravidanza accertata Con un in sé inferiore o uguale a 3.000 euro I cittadini interessati in possesso di requisiti richiesti E che non abbiano già inoltrato istanza Potranno continuare a presentare le domande direttamente al protocollo generale del comune Per scaricare l'avviso e il modello di distanza è possibile consultare il sito del comune Oppure ci si può rivolgere all'ufficio di segretariato sociale in Viale Mediterraneo Aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 Martedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30 Il modello di domanda è inoltre scaricabile dal portale dell'Inps E dal sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Open Day del primo istituto comprensivo diretto da Rosalba Marchiciana Si trarà domani alle 10 al Teatro Comunale Eschilo Sarà portata in scena la rappresentazione del gabbiano Jonathan Livingstone A cura dei ragazzi della scuola media e primaria Sempre domani alle 13 è previsto il pranzo E in occasione degli esami di qualifica Anche si trarà presso l'Istituto Alberghiero di Gela In via list diretto da Grazio di Bartolo Sempre domani dalle 17 alle 19 e sabato 21 Dalle 9.30 alle 13 è previsto l'Open Day Nei locali del liceo scientifico, linguistico e delle scienze applicate Elio Vittorini preseduto da Angela Tuccio Venerdì 20 gennaio invece alle 11 Si terrà nei locali del quarto circolo didattico Luigi Capuana di Gela Retto da Cetta Mongelli L'iniziativa Parents and Teachers Incontriamoci per conoscerci Sarà l'occasione per presentare il piano dell'offerta formativa Fai la cosa giusta Differenzi ai rifiuti Mantieni il decoro urbano della nostra città Oggi mercoledì dalle 22 alle 5 Depositare davanti alla propria abitazione Gli imballaggi in plastica e metallo Multimateriale Nell'apposito sacco trasparente Cosa conferire? Plastica Piatti e bicchieri monouso in plastica Bottiglie di acqua e bibite Flaconi Taniche Dispenser E tubetti vuoti per detergenti, detersivi, shampoo e dentifricio Prodotti per l'igiene della persona e della casa Vaschette, contenitori, buste e sacchetti per alimenti Imballaggi in polistirolo Reggette e stringipacchi Blister Reti e cassette per frutta e verdura Contenitori con sigle PET PET, PVC, PPP, PS Cosa conferire metalli? Lattine per bevande Scatole e lattine in banda stagnata Contenitori in metallo Pelati, tonno, mais, cibo per animali Contenitori di prodotti per l'igiene personale Tappi, coperchi e stampi per dolci in metallo Carta in alluminio di uso domestico pulita Contenitori in alluminio per alimenti puliti Bombolette spray vuote, non pericolose Coperchi in alluminio degli yogurt Lattine con il simbolo AL Come conferire il multimateriale Gli imballaggi in plastica Assieme agli imballaggi in metallo Alluminio, banda stagnata e metalli Vanno conferiti puliti Utilizzando l'apposito sacco trasparente Un ambiente pulito e sano Basta un piccolo gesto Reccoci in seconda parte del telegiornale Su indicazione del sindaco di Gela Domenico Messinese Il segretario generale del comune Pietro Amorosia Ha inviato una direttiva di servizio Ai vari settori Da questa settimana saranno incrementati Gli orari di apertura al pubblico Degli sportelli comunali I front office seguiranno la fascia oraria di urna Che va dalle 8.30 alle 13 Finora l'orario osservato Terminava alle 11.30 Confermati invece Gli orari pomeridiani Che viggono ogni martedì e giovedì Dalle 16 alle 17.30 Incentivare la mobilità ecocompatibile Riducendo le emissioni inquinanti Nell'ambiente E i consumi di carburanti Con questo intento I quattro sintaci dei comuni Di Caltanissetta Mussomeli, San Cataldo e Serra di Falco Hanno deciso di consorziarsi e partecipare Il bando emanato dal Ministero dell'Ambiente Nel programma sperimentale nazionale Di mobilità sostenibile Casa Scuola e Casa Lavoro 650.000 euro L'importo previsto del progetto presentato Che se approvato Sarebbe finanziato per il 60% Con i fondi ministeriali La restante parte con i fondi comunali Prevede un'attività che consorzia I quattro comuni Che sono Caltanissetta San Cataldo, Mussomeli e Serra di Falco Per gestire insieme un sistema di mobilità Che possa agevolare Soprattutto i pendolari In particolar modo Quelli che sono interessati Agli spostamenti giornalieri Quali possono essere gli studenti Attività che abbiamo anche Stretto in collaborazione Con l'ufficio provinciale Di gestione scolastica Un sistema a rete Dove c'è la possibilità Di utilizzare mezzi ecologici Quali sono le biciclette elettriche I bus e tram I bus elettrici Abbiamo previsto nello specifico Una navetta a Caltanissetta San Cataldo E degli spostamenti interni Con benefici del territorio Come ad esempio Su Serra di Falco E Mussomeli Che hanno preferito Inserire una zona Traffico limitato ZTL30 Una serie di iniziative Che porteranno benefici All'ambiente Perché lo spirito del bando È quello di spostare La mobilità singola L'uso della macchina L'uso del mezzo collettivo E soprattutto mezzi Con generazione elettrica In ogni caso Ecocompatibile Un progetto sperimentale Che prevede il coinvolgimento Di partner privati Dell'Università Corea di Enna Quest'ultima interverrà Nella gestione della mobilità Con un sistema Di pali di illuminazione Intelligenti Che consentiranno Di gestire l'uso in comune Di mezzi elettrici Sia privati Sia di quelli messi a disposizione Dall'amministrazione Nonché di monitorare La sicurezza urbana Con riprese video E a circuito chiuso Nei punti di raccolta Dei mezzi L'intento è quello Di favorire La mobilità A favore Di una riduzione Delle emissioni Di CO2 Nell'ambito Del territorio Provinciale Di Caltanissetta E va nella direzione Del PAES Il PAES È piano di azione Sostenibile Delle energie È uno strumento All'interno Del quale Si inserisce La strategia Ovvero La visione futura Di quello Che si vuole attuare Nel nostro territorio E altresì Documento Sostanziale E fondamentale Per poter ottenere Finanziamenti E sbloccare Finanziamenti Sulla nuova programmazione FESR 2014-2020 È prevista Per venerdì 20 gennaio Alle 17 Nella sala conferenza Del liceo scientifico Elio Vittorini Di Gela La presentazione Del libro Di Sebastiano Tusa Primo Mediterraneo L'iniziativa È della libreria Mondadori In collaborazione Con l'istituto scolastico Diretto da Angela Tuccio Dialogherà con l'autore Lella Oresti Introdurrà E modrerà i lavori Lina Orlando È previsto L'intervento Del pittore Giovanni Iudice E ora parliamo Del Gela Calcio Vediamo Le probabilità Che domenica prossima Si giochi Gela Due Torri Sono quasi inesistenti La formazione valoritana Infatti a seguito di una crisi Societaria senza precedenti Non si presenterà al campo Vincenzo Presti È già caduto Nelle ultime giornate Di campionato Arriveranno tre punti A tavolino Ma come sostiene Al tecnico Biancazzurro Pietro Infantino La rinuncia Della squadra Messinese Al campionato Di Sledì È un vero e proprio Pugno allo stomaco Per l'intero Movimento calcistico È una sconfitta Per il calcio siciliano Credo che Scompare una società Che da 30 anni Che fa Campionati Dispiace In un campionato Nazionale Perché Rappresentiamo La Sicilia In Italia Dispiace Non disputare Una partita Perché Venivamo da una Sorsa Natalizia Dopo una Sorsa Natalizia Abbiamo giocato Col Pomigliano E ci siamo Rifermati Altre due settimane Credo che Questo non Fa bene Neanche alla squadra Noi stiamo cercando Stiamo facendo Delle amichevole Per mantenere Questo ritmo gara Perché poi Prossima settimana Abbiamo Mercoledì A Sersale E domenica Con il Gladiator E vogliamo Arrivare pronti Con la gamba E con la testa Per il Gela Si tratta Del secondo stop Consecutivo In tema di partite Non giocate È già saltata La gara Di domenica scorsa A Sersale Per le abbondanti Nevicate Adesso si profila All'orizzonte Anche quella Con il Due Torri L'unico dato positivo Se vogliamo È che in questi 15 giorni Di assenza Dal terreno di gioco Siano stati recuperati Gli infortunati Abbiamo recuperato Bonanfini Già era Al 50% Oggi al 100% Poi Gambuzzo Ancora ha dei problemi Abbiamo avuto L'infortunio Di Alma Alla spalla È ricaduto Nell'infortunio Che ha avuto Quest'estate Si sa Quando ci sono Si fa uno Sportagonistico Si sa che ci sono Anche questi Problemi Però Noi siamo convinti Che abbiamo Una rosa Abbastanza numerosa Per sopperire Anche a certe Mancanze È importante Essere pronte Mentalmente E sapere Che ogni palla Ogni minuto Dobbiamo Dobbiamo lottare Per portare Più in alto Possibile Il gelacalcio Con la sconfitta Subita domenica scorsa Dalla capolista Egia Virtus A Cavale Tirreni Il campionato Si è ufficialmente Riaperto Credo che La Cavese Come il Rende E la Leonzio Hanno qualcosina in più Rispetto agli altri Se la Cavese Vince a Palma Si mettono a pari punti E lì si fa Veramente La Cavese Può dire Può dire Deve aver messo Deve aver fatto Un passo Molto molto importante Il gelacalcio Siamo contenti Di come si stanno Comportando i ragazzi Come si applicano Se manteniamo Questa aggregazione Questo modo di fare Questa voglia Di essere protagonisti Io credo che Il Gela Può dire la sua Fino alla fine E sulla scia Di quello che Da qualche anno Lo slogan del gelacalcio La Fidas Adas Di Gela Ed il club biancazzurro Scendono in campo Per promuovere Il nobile gesto Della donazione Del sangue L'iniziativa Vedrà atleti Tecnici e dirigenti Della società sportiva Giolese Presenti Venerdì 20 gennaio Alle 9 Presso l'unità di raccolta Della Fidas Adas In via degli Appennini Per una mattinata Dedicata ai test preliminari Per la donazione Del sangue E come testimonial Per la cultura Del dono La squadra Allenata Dal tecnico Pietro Infantino Quel sangu mio Che incrocia Gli alti valori Dello sport A quello di appartenenza Alla comunità Giolese Ha deciso Di impegnarsi Affinché ci siano Sempre più donatori In città Contribuendo così A salvare Sempre più vite Appuntamento dunque A venerdì mattina Per questa bella Sinergia Tra il club Del delfino Biancazzurro E l'associazione Di volontariato Preseduta Da Enzo Emanuello Che da decenni Si occupa Della promozione E della raccolta Del sangue E degli emo Componenti Continuano gli appuntamenti Inseriti nell'ottantatresima Stagione concertistica Giolese Promossa dalla Sotazione Amici Della Musica Giuseppe Navarra Domenica 22 gennaio Alle 19 Nei locali Del Palazzo Della Cultura Principessa Pignatelli Roviano Si terrà Il concerto lirico Del trio Giovanna Nuara Soprano Giuseppe Infantino Tenore E Salvatore Gaglio Pianoforte La pagina Del cinema All'antitolo Di Mecchitella A Gela Oggi alle 19.30 E alle 21.30 Sarà proiettato Il film Babbo Bastardo 2 E sabato 21 gennaio Al teatro comunale Eschilo Enrico Guarneri Porterà in scena L'Avaro di Molière Per la regia Di Antonello Capodici Appuntamento Alle 17.15 Per gli abbonati Del turno B E alle 21.15 Per quelli Del turno A I biglietti Lo ricordiamo Hanno un costo Di 12 euro Per informazioni Il botteghino Aperto tutti i giorni Dalle 17.00 Alle 20.00 Ci sono due numeri telefonici 0933 91 18 92 E 345 58 80 580 Con la pagina Dedicata allo spettacolo Noi chiudiamo Le informazioni di oggi Grazie per averci seguito Appuntamento Alle prossime edizioni Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti